Mentre la massa prulicante dei vermi telepatici sciamava serpeggiando sul perimetro esterno, vedemme i difensori indietreggiare terrorizzati. State calmi, usate il lanciafiamme, urlò comandante, ma inutilmente. È ben noto che il verme telepatico usa il terrore psichico per paralizzare la sua prede e poi impiantare le larve fameliche nel cervello delle sue vittime ancora cosienti. Anche se dotate delle armi migliori, sono le truppe più disciplinate possono resistere a questo orrore. Lady Deirdre Sky, la nostra guerra segreta.